Una linea di alimenti per la prima infanzia, lo zafferano dell'Iran, il motore ibrido di una casa automobilistica tedesca. Sono solo alcuni dei prodotti scelti dagli studenti della St. John International University per il loro esame di marketing e comunicazione. Poco più di 30 minuti a testa per spiegare a professori e compagni di corso tempi e modi per il lancio sui mercati, senza dimenticare costi e ricavi e l'immancabile aspetto social e green. Tutto rigorosamente in lingua inglese e con il supporto della multimedialità. Nulla di strano fossimo nel New Hampshire, dove l'università statunitense ha sede. Ma questo esame di master si è tenuto nelle sale del Castello della Rovere di Vinovo, a due passi da Torino. Qui infatti da quattro anni la St. John ha aperto la sua unica sede italiana, inaugurando corsi di lauree e di master in storia dell'arte, architettura, economia e cinematografia. Le lauree che vengono rilasciate sono sia con valenza americana, quindi valide in tutto il mondo, riconosciute in tutto il mondo, sia il dual degree che ha valenza sia italiana che europea. Sette gli studenti del master in marketing e comunicazione, tenuto da Lorenz Samu, già consulente di Sestriere, Bormio e dell'aeroporto di Levaldigi. Arrivano dalla Turchia, dall'Iran, dal Belgio e dal Salvador, tutti laureati nei loro paesi e selezionati dalla St. John in America. Buoni voti certo, ma soprattutto un inglese fluente. A Vinovo corsi, esami e vite nel campus sono tutti in lingua, requisito essenziale per il percorso formativo e soprattutto per il futuro lavorativo. Per il momento, però, i corsisti devono ancora fare i conti con le valutazioni della commissione. Abbiamo visto che alcuni di loro hanno implementato e hanno messo veramente in piedi alcune realtà, piccole realtà imprenditoriali, per cui veramente c'è un po' la loro volontà di fare. Presto gli studenti di marketing e comunicazione avranno compagnia. Nei prossimi giorni arriveranno 30 nuovi iscritti, tutti dalla Cina. Futuri uomini e donne d'affari alla ricerca di prodotti e strategie per i mercati asiatici.